Capire l'apprendimento e la memoria, la neuroscienza della ripetizione. Come impariamo le cose? Come possiamo cambiare? Se l'abbiamo fatto una volta, perché ci ritroviamo a ricadere nelle vecchie abitudini? Forse la prima cosa da capire è come il nostro cervello crea la memoria. È importante comprendere le basi della memoria per capire l'apprendimento e il cambiamento. È anche importante capire le basi della memoria per comprendere meglio la memoria traumatica. E voglio che comprendiate come il cervello crea i ricordi per capire perché la pratica e la ripetizione sono così importanti. Nel blog di oggi inizierò semplicemente con l'idea che le informazioni arrivano attraverso i nostri sensi, le orecchie, gli occhi, la pelle, il naso o le papille gustative. E queste informazioni passano per la strada bassa, la migdala, il nostro centro di immagazzinamento della memoria emotiva e di emergenza, o per la strada alta, l'ippocampo corteccia, il nostro centro di immagazzinamento della memoria. Una volta che le informazioni arrivano, devono essere codificate, e con questo intendo dire che devono essere scritte in un linguaggio che il cervello capisce, in modo da poter essere immagazzinate e ricordate. Qui si fa una distinzione tra memoria a breve termine e memoria a lungo termine. La memoria a breve termine, o anche detta di lavoro, è l'area in cui le informazioni rimangono quando arrivano per la prima volta, qualcuno ci dice il suo numero di telefono e noi lo ripetiamo conservandolo nella memoria di lavoro, che è come una lavagna su cui si scarabocchia nel cervello per le informazioni in arrivo. La memoria a breve termine dura pochi minuti. Quando la memoria a breve termine passa alla memoria a lungo termine, la memoria a lungo termine può durare giorni, settimane, anni o per sempre. Come si spostano le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine? Ci sono solo tre modi in cui le informazioni possono passare dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine, urgenza, ripetizione o associazione. L'urgenza, con il rilascio di ormoni dello stress, crea un potente flusso di sostanze chimiche che rafforza la connessione tra i neuroni o le sinapsi. L'urgenza determina anche come e dove il cervello codifica le informazioni nella memoria a lungo termine. L'urgenza può creare una memoria molto duratura, dopo una singola esposizione a una minaccia, la migdala può conservare quel ricordo per tutta la vita. Tuttavia, la codifica o l'etichettatura dell'evento, la capacità di richiamare o recuperare il ricordo, può essere più problematica e non è sotto il controllo cosciente, cosicché l'informazione viene immagazzinata con un marcatore emotivo, piuttosto che narrativo. Posso passare davanti al luogo in cui ho avuto l'incidente d'auto e sentirmi ansioso, anche se non ho un ricordo cosciente dell'evento. La ripetizione è lo strumento di apprendimento più familiare, tutti hanno memorizzato fatti o parole del vocabolario ripetendoli, e alcuni hanno migliorato il tiro libero a basket o l'esecuzione di scale al pianoforte grazie alla pratica. La ripetizione crea la memoria a lungo termine suscitando o mettendo in atto forti interazioni chimiche nella sinapsi del neurone, dove i neuroni si collegano ad altri neuroni. La ripetizione crea l'apprendimento più forte e la maggior parte degli apprendimenti, sia impliciti, come allacciarsi le scarpe, che espliciti, le tabelline della moltiplicazione, si basa sulla ripetizione. È anche il motivo per cui è così difficile cambiare un comportamento, perché il nuovo comportamento deve essere ripetuto a lungo e il vecchio comportamento deve essere tenuto sotto controllo. L'associazione è la capacità di un'informazione di attingere a una connessione neurale già esistente. È l'equivalente di avere già una cartella di file in cui inserire il nuovo apprendimento. Per esempio, se vi leggessi ad alta voce un elenco di dieci numeri e vi chiedessi di ricordarli e di ripetermeli, in genere trovereste questo compito difficile. Ma se i dieci numeri fossero anche il vostro numero di telefono, il compito sarebbe facile e se vi chiedessi un anno dopo quali sono i numeri, sareste ancora in grado di dirmeli perché facevano già parte di una connessione neurale precedente. Tutti e tre questi metodi influenzano il livello dei neuroni o delle sinapsi in modo simile per la memoria a lungo termine. La stimolazione data dall'urgenza, dalla ripetizione o dall'associazione creerà nuove proteine all'interno del neurone. A livello della sinapsi si crea una proteina che si autoperpetua e che mantiene la connessione tra i neuroni. Si tratta di una proteina che si autoperpetua a lungo e che si rafforza con la ripetizione. Oltre a questo ciclo che si autoperpetua, il neurone, attraverso il processo proteico, crea anche una nuova crescita del terminale sinaptico per aumentare la connessione, aggiungendo un altro ramo al suo albero per rafforzare e aumentare la rete. Quindi la ripetizione fa crescere la rete neurale del cervello. Quindi, salvo rare eccezioni, la ripetizione è l'unica vera opzione per imparare, disimparare e reimparare, eppure da adulti crediamo spesso di poter e dover imparare tutto in fretta. Si suppone che tutto sia in tre semplici passi, o forse cinque, ma non cento. Siamo progettati per imparare attraverso la pratica. Riuscite a immaginare quanto sarebbe assurdo dire, suona il violoncello come yo-yo ma in tre semplici passi. Sarebbe assurdo. I musicisti dell'It impiegano 15-15 anni di pratica per diventare gli artisti che sono. E a seconda di ciò che si sta cercando di imparare, di guarire, di disimparare o di reimparare, può volerci molto tempo. Non c'è problema. È il modo in cui siamo stati progettati per imparare. E le nostre sinfonie interne valgono la pratica, il tempo e la cura.